Puntata dell'Occhio di Abate di venerdì 3 luglio, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre. Parleremo della grande industria e del sistema Taranto, parleremo dell'ILVA alla luce della convalida del sequestro dell'Alto Forno 2. È una puntata in cui non parleremo solo di ILVA ma parleremo di varie realtà industriali, tarantine connesse poi alla situazione occupazionale. Parleremo di Eni, parleremo di Tempa Rossa, parleremo delle tante aziende che stanno chiudendo. Un sistema Taranto visto e analizzato sotto l'aspetto produttivo, occupazionale e sociale e sotto l'aspetto ambientale. Lo faremo con insigni ospiti, a partire da Michele Mazzarano, consigliere regionale del Partito Democratico, con il professor Alessandro Marescotti, presidente di PISELINC, con Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto, nonché neo eletto vicepresidente regionale di Confindustria Puglia, con una new entry, Claudio Leone, che è il coordinatore del comitato per Taranto Capitale Italiana della Cultura, proprio a dimostrare che ci sono altri percorsi per far riemergere Taranto e la cultura è uno di questi. Non vi resta che mettervi in poltrona davanti al televisore e gustarvi una puntata ricca di significati, una puntata che come al solito non fa sconti a nessuno e che fa parlare tutti. Questa è l'informazione libera della città.